Ciao, io sono Floriana, sono direttrice Faberlic. Oggi è iniziata la campagna numero 5, eccola qua, questa meravigliosa campagna perché ci sono delle novità interessantissime. Per chi desidera registrarsi in questa campagna, quindi da oggi 14 marzo, entro quindi il 3 aprile, riceverà, facendo un ordine di 25 euro, minimo di 25 euro, riceverà nella campagna successiva un buono di 9 euro, quindi in denaro, quindi da poter spendere nei prodotti. E quindi approfittate se volete provare questa azienda, volete provare la qualità soprattutto eccellente di questi prodotti. Quindi passiamo avanti, se volete farmi poi delle domande io lascio come sempre in info box tutti i miei dati così mi potete contattare e così vi spiegherò un po' meglio come funziona. Naturalmente l'iscrizione è assolutamente gratis, non ci sono vincoli, assolutamente. Potete iscriversi per autoconsumo, per farla diventare una carriera, quello potete deciderlo anche in un secondo tempo. Allora, vediamo un po' queste novità che ci sono in questa campagna. Già un po' dalla copertina si intravede questa nuova linea che si chiama It's Claire. Questa è una nuova linea particolare perché va dal 94% al 100% di origine naturale. Eccole qua, ci sono tutte le certificazioni. Questa è una nuova linea di make-up, eccola qui, che appunto è uscita proprio in questa campagna. È appunto zero siliconi, parabeni, non sono testati sugli animali. Quindi è veramente eccezionale. Ecco qua, si vede un po' tutte. Poi la cosa anche particolare di questa linea, che ha la plastica 100% riciclata, è sicura per la natura. È utilizzata nelle confezioni del mascara addirittura. Quindi anche il mascara, perché essendo anche di origine naturale, la plastica è tutta riciclabile, è riciclata. E quindi veramente è una cosa particolare che ha fatto Faberlic. E addirittura anche, per esempio, proprio all'interno del mascara, contiene le fibre dello scovolino del mascara. Sono fatte di olio di ricino cristallizzato e sono appunto biodegradabili. Quindi è un'ottima soluzione che hanno fatto. Poi c'è, in offerta lancio, a parte questo mascara a 4,49 euro, questo rossetto idratante a 4,49 euro. Eccolo qua. E qua ci sono tutte le varie tonalità del rossetto. Una linea interessante, non vedo l'ora di provare. Ed è abbastanza completa. Ci sono, c'è di tutto. C'è dalla cipria, balsamo labbra. Ecco qua, questo è un illuminante. Illuminante che questo è un 98% naturale. E poi c'è anche una cosa, una novità che c'è anche in questa linea. È questa pomata per sopracciglia. Ci sono di varie colorazioni. Pomata, quindi è fatta con questo barattolo, per le sopracciglia. Ecco, poi qui c'è un BB in green. Eccola qui. Anche questa, proprio una linea veramente completa. Poi ci sono gli adesivi per le unghie, per il corpo. Interessante questa linea, non vedo l'ora, di provare alcuni di questi prodotti. C'è la ciglia, c'è veramente una vasta scelta. Poi, come sempre, ci sono tantissime offerte. Ma io vado avanti per mostrarvi più che altro le novità. Un'altra novità che c'è in questa campagna, creata proprio da Andrea Pesce. Quindi questa è una linea italiana. Eccola qui. Questa è una nuova linea di fondotinta. Sono fondotinta e sono state create le fondotinta anche per le pelli più scure. Eccoli qua. Si inizia dalla tonalità più chiara fino ad arrivare alla tonalità scura, ancora più scura, fino a questa proprio scurissima. Quindi questa è una novità interessante che non avevamo. Molto bella, appunto, creata da questo famoso Mega Parties Andrea Pesce. Quindi, perché anche qui c'è il certificato, c'è scritto Madre in Italia. Poi, continuano sempre le offerte della linea, della nuova collezione. Ecco questa qui, Primaverile, con questi colori fantastici. E poi andiamo avanti con le altre novità. Ci sono diverse, diverse novità, oltre, come sempre, tantissime offerte. Allora, questa nuova formula francese di smalti per le unghie, con queste tonalità, diciamo, primaverili. Con colori primaverili. Questa è tutta una nuova linea francese di smalti per le unghie. Poi, andiamo avanti con le altre novità. E' questa nuova linea della linea parafarmaceutica. Eccola qua. Questa è una linea di deodoranti che permettono di persistere per tantissime ore. Quindi, questi, per chi ha problemi di sudorazione, questi qua sono ottimi. Siamo appunto della linea parafarmaceutica e farmacia, quindi sono prodotti eccellenti. Come anche il deodorante a spray, se non si vuole a roll-on. Poi, vediamo cosa c'è di novità. Ecco, un'altra novità è stata fatta in misura XXL. Eccolo qui. Questa pomata per i piedi e talloni. Questa è una pomata che era già presente, però in formato più piccolo. Adesso è uscita la confezione, quella più grande, perché è veramente fantastico. Rende veramente i piedi liscissimi. Ottimo, lo straconsiglio questo prodotto. Ed è in offerta lancia 3,19€. Però appunto è formato quello molto grande. Come c'è questo sapone liquido disinfettante per le mani. Questa è un'altra novità, sempre della linea parafarmaceutica. Infatti c'è qui proprio il simbolo che lo dimostra. Anche questa è una novità. Poi andiamo avanti con le altre novità. Cos'altro ho segnato? Ho segnato un po', ho fatto un segno nelle varie pagine dove ci sono appunto i prodotti nuovi. Ecco, per esempio, c'è questa nuova linea di asciugamani con vari colori. Un asciugamani per il viso, quelle piccole, per gli ospiti, un asciugamani grandi, telo, da bagno. Con tutti questi vari colori, insomma, si può scegliere fra diverse colorazioni. Questi sono di qualità ottima, questi prodotti. Poi è uscita questa nuova confezione di cofonetti di Porta Gioia. Uno è colore lavanda e uno beige. Questa è un'altra novità carina. Questi Porta Gioia. Sono delle cosine molto utili. Poi, interessante la linea Beyoncé, che adesso la collaboro insieme a Faberlic. È una linea francese, non so se la conoscete. Questa linea dove fa, oltre a fare make-up, creme e quant'altro, ha pure i detersivi. E quindi sono presenti anche in questa campagna questi detersivi che hanno, anche in questo caso, il 66,9% di origine naturale. E sono rispetto nell'ambiente. Sono infatti prodotti che si prendono cura, insomma, nell'ambiente della casa. Interessanti sono questi, io ancora non li ho provati, ma sicuramente quanto prima farò proprio un ordine per poterli provare. Non vedo l'ora di provare anche questi detersivi, perché io provo un po' di tutto, perché mi piace, diciamo, vedere la qualità dei prodotti. Per poi presentarli alle altre persone. Qui continuano gli altri prodotti, qui sono gli odoranti per l'ambiente, sempre di questa linea Beyoncé. Anche qui certificato per francese sviluppo, eccolo qua. Proprio una linea francese. Poi andiamo avanti con un'altra cosa altro avevo segnato come novità. Credo di aver terminato, se non ho dimenticato niente. Mi sembra di no. Ora vi mostro invece velocemente le offerte che ci sono in questa campagna. Ce ne sono tantissime. A partire da questo mascara, sono soli 3,59€, spendendo dal catalogo 8,99€. Facendo una spesa di 8,99€ possiamo acquistare questo mascara a 3,59€. Quindi questo già è un'ottima offerta. Poi come ho anche in offerta questi fantastici ombretti liquidi. Questi mi piacciono tanti. Ce li ho quasi tutti i colori. Non ce li ho tutti, forse ce li ho proprio tutti. Quasi, non lo penso tutti, tutti no. E sono veramente ottimi. Hanno il 40% di sconto. Costano 4,99€ ciascuno. Questi durano tutto il giorno. Sono dei rossetti liquidi fatti veramente bene. Sono bellissimi i colori. Colori brillanti, stupendi. E quindi sicuramente ne acquisterò qualcuno di questi. Poi, questa torce è in offerta. Ci sono tantissime offerte. Continuando sempre per quanto riguarda la linea Beyoncé, ecco qua. Ci sono in offerta un po' di prodottini interessanti come questo scrub per il viso al 35% di sconto. La maschera per il viso 5,39€. Lo scrub invece costa 4,29€. L'azione per il viso. Questa appunto è la linea bio per chi ama i prodotti naturali. Proprio c'è segnato fino al 98%. E quindi per chi ama questo genere di prodotti sono in offerta fra le altre cose. Quindi è interessante come lo spray viso idratante, latte detergente. Tutta questa linea super scontata. E poi cos'altro c'è di scontato? Vediamo un po'. Ci sono tanti prodotti in offerta. Ci sono i classici detersivi di Fabricaine. In offerta come la tinta per i capelli della linea biomica, botanica scusate, la linea botanica. 2,99€. Questa è appunto in offerta anche. Poi ci sono in offerta un po' di profumini, quelli da 30ml a 5,39€. Vi vediamo un po'. Poi ce ne sono tantissime. Le offerte sono veramente tante, tante, tantissime. Se volete vedere il catalogo, il mtf, me lo chiedete e ve lo farò avere. Grazie per aver visto questo video. Io come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, così da non perdere i prossimi video che pubblicherò. Ciao, alla prossima! Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.